Maltrattamenti in famiglia 7 denunce nel Nisseno Finanziamenti europei, interrogazione al sindaco di Caltanissetta Conferenza provinciale permanente sull'edilizia scolastica Precari Covid, indicazioni alle aziende sanitarie e ospedaliere Fondi concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale Maltrattamenti in famiglia 7 denunce nel Nisseno Il dato emerge dal bilancio dell'attività di repressione e prevenzione dei reati Portata a termine dalla Polizia negli ultimi giorni L'azione di contrasto e prevenzione dei reati nel territorio È la linea maestra nella quotidiana attività della Polizia di Stato di Caltanissetta Nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati Nel territorio della provincia la Polizia ha denunciato all'autorità giudiziaria 33 persone, seguito 18 perquisizioni e sequestrato cocaina e cannabinoidi Il dato da evidenziare è il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali Ben 7 Inoltre sono 33 le persone denunciate all'autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato Su tutto il territorio della provincia nissena 8 per reati contro il patrimonio, furto e ricettazione 5 per detenzione di armi 2 per guida sotto l'influenza di alcol e stupefacenti 3 per abbandono di animali nel fondo altrui 2 minorenni per violenza privata 6 per altri reati, evasione, immigrazione clandestina e minacce 5 persone sono state segnalate alla locale prefettura poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale Finanziamenti europei Interrogazione dei consiglieri Aiello e Visconti al sindaco Gambino Presentata dai consiglieri della Lega Oscar Aiello e Valeria Visconti Un'interrogazione sui finanziamenti europei persi a valere sul PNRR Pubblicato nel 2022 Il comune di Caltanissetta ha davvero perso 4,5 milioni di euro dei fondi PNRR Faremo chiarezza in aula consigliare per accertare eventuali responsabilità Afferma il capogruppo della Lega Oscar Aiello Tra i quesiti viene chiesto in cosa consistono i tre progetti non ammessi a finanziamento E se il comune si legge ha davvero messo di rispondere alla richiesta inviata in soccorso istruttorio Dall'Agenzia per la coesione territoriale Si farebbe riferimento a dei progetti presentati dal comune di Caltanissetta Nell'ambito di un avviso relativo alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie A valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza pubblicato nel 2022 L'interrogazione rivolta al primo cittadino verrà discussa durante la seduta di Question Time E sarà proprio in quella sede che arriverà la risposta da parte dell'amministrazione Così come ci ha spiegato il sindaco Roberto Gambino contattato telefonicamente Conferenza provinciale permanente sull'edilizia scolastica Attenzioni puntate anche sulla programmazione degli interventi Nuova seduta nella mattinata di oggi in collegamento dal remoto Della conferenza provinciale permanente insediatasi il 19 ottobre dello scorso anno Per affrontare il delicato tema dell'edilizia scolastica nel territorio provinciale Obiettivo dell'odierna riunione è stato quello di fare il punto della situazione Sugli interventi in atto sugli edifici scolastici E di iniziare a programmare in vista della chiusura dell'anno scolastico E nell'ambito di un confronto proattivo tra tutti i soggetti interessati Gli interventi che si rendano necessari in considerazione delle diverse criticità Segnalate dall'ufficio scolastico provinciale in diverse scuole del territorio Alla riunione presieduta dal prefetto Chiara Armenia Erano presenti oltre ai sindaci dei comuni interessati Anche il direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta Il dottor Filippo Ciancio E il dirigente dell'ufficio tecnico del libero consorzio comunale di Caltanissetta Mario Denaro Nella circostanza il referente del libero consorzio comunale Ha illustrato gli interventi in atto E ha elencato ben nove progetti che sono stati presentati e approvati a livello regionale E che riguardano interventi di riqualificazione di alcuni istituti scolastici della provincia Inoltre lo stesso è riferito che sono stati altresì finanziati taluni interventi di adeguamento sismico E di riqualificazione architettonica degli spazi E di palestre di taluni istituti di istruzione superiore di Gela Che saranno finanziati con i fondi del PNRR Il prefetto ha espresso apprezzamento per l'attenzione mostrata sulla tematica Nel prendere atto dei numerosi lavori già in corso E dei progetti approvati e in programmazione Ha esortato i comuni a prestare maggiore attenzione all'attività rivolta a intercettare finanziamenti Indispensabili per poter realizzare lavori di miglioramento degli edifici scolastici Dipendenti alle amministrazioni comunali Personale reclutato durante l'emergenza Covid arrivano dalla Regione Istruzioni operative per le aziende sanitarie ed ospedaliere Sono giorni di fermento per i lavoratori assunti durante l'emergenza della pandemia Sono arrivate dalla Regione Sicilia infatti le istruzioni operative per le aziende sanitarie e ospedaliere In merito al personale reclutato durante il periodo Covid In particolare vengono confermate per il personale sanitario e sociosanitario Le indicazioni relative alla prosecuzione dei contratti Già fornite alla fine del dicembre scorso La nota a firma dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo E del dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica Salvatore Requirez prende spunto dalla conversione legge Del decreto legge conosciuto come mille proroghe in vigore da oggi Nel dettaglio il mille proroghe prevede l'estensione fino al 31 dicembre 2024 Del periodo entro il quale si possono maturare requisiti utili 18 mesi Alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante la pandemia Da qui l'invito alle aziende sanitarie a procedere a un'accelere ricognizione Finalizzata a individuare i profili esistenti nelle rispettive dotazioni organiche Ancora non ricoperti e a verificare quanto personale reclutato durante l'emergenza Covid Si è in possesso dei requisiti di legge Indicazioni diverse invece per l'utilizzo del personale di unità di continuità assistenziale Già prorogato fino al 28 febbraio Il cui rapporto di lavoro viene steso di un altro mese fino al 31 marzo prossimo Così da garantire l'offerta assistenziale territoriale Fondo concorsi progettazione idee per la coesione territoriale Occupazione e turismo in primo piano nel Nisseno Il fondo concorsi progettazione idee per la coesione territoriale Istituito dal governo di cui l'Agenzia per la coesione territoriale è autorità responsabile Idee, progetti e opportunità presentate dal GAL, gruppo di azione locale Insieme ai comuni ricadenti nel nucleo di aggregazione territoriale Terre del Nisseno E che hanno aderito entro la scadenza del 18 febbraio 2023 Entro il 18 febbraio bisognava bandire i concorsi di progettazione I concorsi di progettazione dureranno almeno fino al 18 aprile Ci sarà poi anche la possibilità di un'eventuale proroga In base a quello che sarà il contesto territoriale di riferimento Perché l'obiettivo è proprio quello di coinvolgere il territorio dalle proprie radici Per cui nascerà una forma di dibattito, di confronto E questo porterà sicuramente a degli obiettivi più specifici per i territori amministrati E la possibilità anche che questi obiettivi vengano individuati dai professionisti E non solo dalla politica Le risorse sono state messe a disposizione nella presenza del Consiglio dei Ministri Per quanto riguarda la nostra provincia circa 1.200.000 euro Il requisito era comunità sotto i 30.000 abitanti Per cui praticamente riguarda le piccole comunità L'opzione era o dare gli ingarichi diretti di progettazione Quindi con l'affidamento diretto Oppure fare un concorso di idee di progettazione I comuni che sono qua oggi presenti hanno optato per questa seconda scelta Per tanti motivi Uno per tracciare un nuovo solco anche di modalità di lavoro nella pubblica amministrazione Vediamo la possibilità a più operatori del settore, architetti, ingegneri Di poter esprimere le proprie idee su quello che riguarda la rivalutazione di un territorio In un secondo passaggio praticamente stiamo facendo un'azione di trasparenza Non indifferente per quanto riguarda la possibilità di allargare a livello nazionale il concorso In questo modo vengono preparati dei progetti legati a diversi ambiti Dall'occupazione al turismo ad esempio Pronti per essere presentati per partecipare ai vari bandi E rintracciare così finanziamenti Come anche nel caso del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Finalmente un approccio unitario Un approccio che coinvolge più comuni Che insieme decidono di progettare Decidono di portare avanti quella che è la visione Che il Galle, che i comuni che fanno capo al Galle Ha sin dalla sua origine E che quindi mettono a disposizione le risorse Che un apposito provvedimento nazionale Mette a disposizione per portare avanti iniziative comuni Per quello che riguarda noi è estremamente comunque importante Perché con questo fondo legato ai concorsi di progettazione Quindi del fondo di coesione territoriale Vi è l'opportunità di riportare il progetto di qualità Al centro dei processi comunque di trasformazione Socio, economico, culturali Delle varie comunità Per cui ci viene data oggi la possibilità Di fare dei progetti di qualità Da porre comunque all'attenzione delle comunità Quindi dei progetti di transizione verde Di transizione ecologica Di transizione digitale Di riqualificazione comunque Anche dei centri storici Delle varie comunque aree urbane Alluvioni la Regione dispone Interventi di pulizia Fluviale nella Sicilia orientale Nenisseno Continuano senza sosta In tutta l'isola Gli interventi disposti dal Presidente della Regione Renato Schifani Per combattere i fenomeni alluvionali E prevenire i danni al territorio E alla popolazione Si tratta di azioni immediate In vista della realizzazione Del piano straordinario di manutenzione Dei fiumi dei torrenti Richiesto dal Governatore All'indomani dell'alluvione Che ha colpito la zona sudorientale dell'isola Nell'immediato Gli interventi più importanti Sono stati pianificati Attraverso l'autorità di Bacino Del distretto idrografico Proprio nella zona orientale In cui lo scorso 9 febbraio Si è abbattuto il ciclone Helios Che ha causato l'esondazione Del fiume Gornalunga Nei territori di Catania Ramacca e Lentini Nel corso di una riunione Nella base militare di Sigonella Inoltre è stato deciso Che la città metropolitana di Catania E l'ente oasi del Simeto Provvederanno ad avviare L'itere progettuale Per il dragaggio della foce del fiume Che servirà a regolare Il deflusso delle acque In caso di ondate di piena Provenienti sia dal Gornalunga Sia dal Dittaino Sempre in Sicilia orientale L'autorità di Bacino Ha stipulato una convenzione Con il comune di Siracusa Per la realizzazione Della manutenzione straordinaria Dei fiumi Anapo e Ciane Con l'importo di 247 mila euro Nella provincia di Caltanissetta È stata approvata La realizzazione Dei lavori con urgenza Sui territori Ficuzza e Maroglio Che in alcuni tratti Hanno distrutto gli argini A causa della presenza Di canne, tronchi E detriti vari In questo caso Occuparsi della realizzazione Dei lavori Dal costo di 291 mila euro Sarà il genio civile Di Caltanissetta Mobilità in Sicilia Nasce l'ispettore Dei centri di revisione veicoli Turano e Aricò Dichiarano al via Corsi di formazione Ed esami di qualifica Nasce in Sicilia La figura di ispettore Dei centri di controllo privati Per la revisione Dei veicoli a motore Che sarà adeguatamente formata Con corsi inseriti Nel repertorio regionale Delle qualificazioni Con conseguente esame Di abilitazione Questo percorso innovativo È disposto da un decreto Interassessoriale Sigrato dagli assessori regionali All'istruzione Alla formazione professionale Mimmo Turano E alle infrastrutture E alla mobilità Alessandro Aricò Abbiamo recepito I contenuti dell'accordo Inserendo il nuovo profilo Di ispettore Nel repertorio regionale Delle qualificazioni Ha dichiarato L'assessore Turano In considerazione anche Del compito attribuito Alle regioni Di erogare corsi di formazione Teorico-pratici Di questo tipo Attraverso soggetti Accreditati E volendo rispondere Fai bisogni Del territorio siciliano Da tempo abbiamo evidenziato La necessità Di riorganizzare Le attività Delle motorizzazioni E questo è un primo atto Concreto Nei confronti Delle esigenze Dell'utenza Ha continuato L'assessore Aricò Ma anche per rendere I procedimenti Amministrativi Più trasparenti E meno permeabili A possibili pressioni Illecite Nel documento Vengono evidenziati I requisiti Compiti E responsabilità Degli ispettori Che svolgono Gli accertamenti periodici Dei veicoli a motore E dei loro rimorchi Gli ispettori formati A concluso Saranno iscritti Nel registro unico Istituito al Dipartimento Per la mobilità Sostenibile Del Ministero Delle Infrastrutture E dei Trasporti Tre grandi arterie Il programma Della Real Maestranza Parla il Presidente Giuseppe Tuminelli A pochi giorni Dal sabatino Dedicato alla Madonna Della Provvidenza Quest'anno Il programma Della Real Maestranza Per la Settimana Santa Torna come da tradizione Ad essere pieno di impegni Per il Capitano Le cariche capitanali Le categorie E l'intera associazione Ormai è ufficiale Con la prima domenica Di Quaresima Si effettua il passaggio Di consegne Della Real Maestranza E dopo tre anni È stata veramente Un'emozione Riprendere Riprendere Le nostre tradizioni Il prossimo appuntamento Sarà quello Del secondo sabatino Di Quaresima Il sabatino del Capitano Dedicato alla Madonna Della Provvidenza Le 16.30 Sabato 4 marzo Le categorie si riuniranno Nella chiesa di San Giuseppe Insieme a padre Angelo Spilla Per un momento di preghiera E benedizione delle dieci bandiere Poi in corteo Arriveranno in cattedrale Per la cerimonia Del passaggio Delle consegne Tre portabandiera La bardieri E porta baldacchino Delle dieci categorie Cerimonia seguita Dalla Santa Messa Celebrata da Monsignor Gaetano Canalella La Real Maestranza Nel frattempo Pensa anche Alle nuove generazioni Cercando di raccontare Loro la storia Le tradizioni della città Loro imparare Un qualcosa Che a loro piace Noi siamo dieci categorie Quindi hanno una vasta scelta I ragazzi di potere E scegliere E imparare Veramente Col cuore Come si fa Come siamo noi Artigiani Che quello che abbiamo insegnato L'abbiamo insegnato Col cuore dentro Veramente Oltre a farlo con le mani Ormai diciamo C'è una bella tecnologia Moderna E avendo insegnato Un mestiere antico Quello moderno Avviene molto più facile Spigolature su Verga A 100 anni dalla morte Con Giuseppina Battaglia Martedì pomeriggio Nella sala fiandaga Del seminario Vescovile Il convegno di cultura Beata Maria Cristina di Savoia Ha organizzato un incontro Dal titolo Spigolature su Verga In occasione del centenario Della morte dello scrittore siciliano Relatrice dell'incontro È stata Giuseppina Battaglia Docente merito del liceo scientifico Insieme con la presidente Franca Carapezza E l'assistente spirituale Don Galogero Panepinto Giovanni Verga è sicuramente Un unicum A parte che è un nostro scrittore Il più grande scrittore Che abbiamo avuto in Sicilia Ed è doveroso ricordarlo Dovevamo ricordarlo l'anno scorso Per il centenario della morte Ma non è stato possibile Per vari motivi Che non è il caso di dire qui E siamo riusciti a farlo adesso Naturalmente ci sarebbe tantissimo Da dire su Verga E soprattutto sfatare Ed è quello che cercherò di fare Con queste spigolature questa sera Soprattutto sfatare quel cliché Verga autore dei vinti Verga è il verismo Verga è verga Verga non si può etichettare Come secondo me non vanno etichettati Tutti gli scrittori Bisogna sottolineare sempre Che ogni scrittore è se stesso E questo secondo me vale molto Molto di più per Verga Non si può paragonare È stato paragonato ai francesi A Zola, a Flaubert Si sono fatte le differenze da Manzoni Per carità non parliamo di Manzoni e Verga Manzoni è Manzoni Verga è Verga Manzoni nel suo romanzo Costruisce di testa i personaggi Verga li vede Li crea Li fa agire nel modo che vuole lui Ma la simpatia o l'antipatia O il giudizio O l'empatia sui personaggi Non è lui che li detta È il lettore che li coglie Quello che voglio mettere in evidenza È proprio questo Cioè innanzitutto il fatto che lui Si interessi dei cosiddetti vinti Ossia di quelle categorie di persone Che sono la gente del popolo La loro vita Le loro difficoltà I loro problemi E analizza appunto Soprattutto la società contadina E anche di pescatori Della zona di Catania Per cui Questo mi porta a considerare anche L'attenzione che come Chiesa Noi dobbiamo avere Soprattutto nei confronti Del popolo Della gente semplice Della gente umile E anche della loro vita La nostra associazione È intitolata Alla Beata Maria Cristina Di Savoia Si tratta Diciamo Di un'associazione Che per quando Abbia natura laica È collegata Strettamente Ai principi cristiani E cattolici Infatti La nostra sede Di Caltanissetta È proprio presso Il seminario Vescovile Di Caltanissetta Mandorlo in Fiore Fervono i preparativi Per la nuova edizione Dal 5 al 12 marzo Fervono i preparativi Della 75esima edizione Della sagra Del Mandorlo in Fiore Che ritorna Da Grigento Dopo 4 anni di stop Dal 5 al 12 marzo 2023 Nata nel 1938 A noto Per celebrare Il mito di Proserpina E poi trasferita Da Grigento Nel 1953 La sagra Del Mandorlo in Fiore È diventata Uno degli eventi Più importanti Della primavera siciliana Ogni anno Turisti Da ogni parte Del mondo Visitano la città Per ammirare La bellezza Dei Mandorlo in Fiore E partecipare Alle attività Che si svolgono Durante la manifestazione Quest'anno I treni storici Da Palermo Ad Agrigento E sulla ferrovia Dei Templi Tra Agrigento Porto Empedocle Arricchiranno L'esperienza Dei visitatori L'evento È organizzato Dal comune Di Agrigento In collaborazione Con il parco Archeologico E il distretto Turistico Della Valle De Templi La fondazione FS italiana È il sostegno Del ministero Del turismo Del turismo E della regione Siciliana Fondo regionale Dello sport Schifani È amata Dichiarano Sosteniamo I giovani E l'inclusione Sociale Il governo Regionale Siciliano Ha dato Particolare Rilevanza Nella legge Di stabilità Alla ruolo Pedagogico Che lo sport Ricopre Nella quotidianità Del territorio Isolano L'istituzione Del fondo regionale Dello sport Ha affermato Il presidente Della regione Sicilia Renato Schifani È una delle misure Tra le più qualificanti E significative Della legge Di stabilità Per la sua valenza sociale Lo sport È un veicolo Straordinario Di inserimento sociale Di crescita Non soltanto fisica Ma anche culturale Per l'apprendimento Di valori Di collaborazione E di rispetto Delle regole L'assessorato Definirà In tempi brevi Le procedure Per rendere operativo Questo nuovo strumento Che il mio governo Ha fortemente voluto Lo ha dichiarato Il presidente Della regione Siciliana Renato Schifani Dopo la pubblicazione Mercoledì Gansetto ufficiale Della legge Di stabilità Approvata Dall'assemblea Regionale Siciliana Lo scorso 17 febbraio Attenzione Rivolta allo sport Che è stata confermata Anche dall'assessore Regionale al turismo Sport e spettacolo Elvira Amata Che sottolinea Come non soltanto Sono stati mantenuti Gli stanziamenti Destinati alle diverse Discipline E relativi Alle normative Di settore Ma il nuovo Fondo regionale Dello sport Continua Può contare Su una dotazione Di 1,3 milioni Di euro Con l'obiettivo Di offrire Un concreto sostegno Ai giovani Di età compresa Tra i 6 e 16 anni Che intendano Praticare Un'attività sportiva In un'ottica Di maggiore inclusione Sociale Contrasto Ad ogni forma Di diseguaglianza Ulteriori risorse Sono state previste Altresì Per le spese Di trasporto Di atleti disabili Per lo svolgimento Di attività sportive L'assessore Ha poi concluso Evidenziando Come siano state Adottate Precise azioni Rivolte All'impiantistica Sportiva Attraverso Specifici fondi Finalizzati Alla riqualificazione Di alcune strutture Di cui abbiamo Dice Acquisito La mappatura Nissa Giovannoni Dichiara Giammusso Comproprietario E consigliere Del presidente Una nota del club Dice Non avrà alcuna carica All'interno Della società Il servizio Arialdo Giammusso Sarà tra i comproprietari Della Nissa E consigliere personale Del presidente Parola Di Luca Giovannone L'imprenditore Che nei giorni scorsi Ha annunciato Il suo impegno Per la massima Società calcistica Della città Di Caltanissetta Dichiarandosi pronto Ad assumere la guida Della dirigenza Arialdo Giammusso E' un mio amico Lo scorso anno E' riuscito Anche a portare La Nissa A primo posto In classifica Poi gli è mancato Il papà E questo delibile lutto Lo ha disorientato E ha lasciato La squadra Un giorno però Sono sicuro Che Arialdo Sarà uno Dei comproprietari Della Nissa Uno di quelli Che perderanno soldi Per fare grande La Nissa Rendo pubblico Che quando sarò In carica Nominerò Arialdo Consigliere personale Mio consigliere personale Quando sarò presidente Anzi Devo dire Arialdo Già mi ha dato Degli ottimi Buoni consigli In base alla sua Esperienza Logicamente Seguirò Solo i consigli Che riterò Validi Da Arialdo Ma Ho grande fiducia Sulla sua esperienza E quindi Per me Arialdo Già Mosto È una figura Che merita Rispetto È una persona Che merita I riconoscimenti Anche per Quello che ha fatto Perché è uno Che ha speso Risorse personali Finanziarie Importanti Chi lo fa Questi benefattori Bisogna Solo Ringraziarli Intanto In una nota Del club Apparsa su Facebook Si legge Secondo Quando Congordato Con i futuri Nuovi soci Ed in vista Dell'imminente Trasformazione Della Nissa Da associazione Sportiva Dilettantistica In società Sportiva Dilettantistica Arialdo Già Musso Non avrà Alcuna carica All'interno Della società Né sarà Socio Della stessa Il ruolo Di consigliere Personale Del futuro Presidente Luca Giovannone Non comporterà Infatti L'assunzione Di ruoli Dirigenziali Arialdo Già Musso Condattato Della nostra Redazione Preferisce Non rilasciare Dichiarazioni Ufficiali Annunciando Che lo farà Al momento Opportuno Pesistica Emergono I giovani Nisseni Parla Mirko Scarantino Nello scorso Fine settimana Ficarazzi In provincia Di Palermo Si sono svolte Le prime fasi Di qualificazione E campionati Italiani Assoluti E la categoria Under 17 Di pesistica I ragazzi Della sezione Fiamme Oro Di Caltanissetta Si sono distindi Nelle varie categorie Tra cui Federico La Barbera Nella categoria 500 kg Manuel Di Maria Categoria 61 kg Martia Riggi Martia Riggi E Ginevra Panebianco 49 kg Under 17 Questo buon inizio Lascia ben sperare Per i risultati futuri Ne abbiamo parlato Con l'ex campione Olimpico Mirko Scarantino Nella sua nuova Veste Ed allenatore Ho preso Questo incarico Da poco tempo E sono diventato Tecnico Della sessione Giovanile Delle Fiamme Oro Grazie al direttore Tecnico di Roma E ai dirigenti Che mi hanno dato La possibilità Di incominciare Questo percorso Spero di dare Ai ragazzi Ai giovani Tutto quello Che ho fatto Io in questi anni Di attività sportiva E di trasmettere A loro Qualcosa di importante E di intraprendere Questo ruolo Con professionalità Edizione E tanto impegno Come ho fatto L'atleta E ora Ho la possibilità Di essere qui Aggregato a Caltanissetta Nella sezione giovanile Dove fanno parte Anche il tecnico Maurizio Sardo E Salvatore Parla Dove collaborerò Con loro Abbiamo tanti giovani Sabato e domenica Abbiamo avuto I campionati regionali Per la fase Della qualificazione Ai campionati italiani Con tantissimi giovani Della sezione giovanile Fiamme Oro Sono dei ragazzi In base di crescita E sicuramente Cercheremo di portare Loro A dei risultati importanti Perché hanno Delle grandi capacità Ma la cosa più importante È iniziare con i giovani Per poi Intraprendere Diciamo Dei importanti risultati Che sono la cosa Che più conta Gabriele Labarbera Atleta Della sezione giovanile Fiamme Oro Di pesistica Di Caltanissetta È stato convocato Per la partecipazione Ai prossimi Campionati mondiali Youth di Durazzo Che si svolgeranno Dal 24 marzo Al primo aprile 2023 Gabriele Già campione Italiano Under 17 Ha ottenuto La medaglia di bronzo Ai campionati europei Under 15 Nel 2021 Il giovane atleta Nisseno Attualmente Si sta allenando Al centro di preparazione Olimpica Giulio Onesti Di Roma Sotto la direzione Del direttore Tecnico nazionale Sebastiano Corbu Per questa edizione Del nostro telegiornale È tutto Vi lascio al meteo Alle informazioni Di pubblica utilità Grazie per l'attenzione Buon proseguimento Con la nostra Programmazione Un saluto Ben ritrovati Con le previsioni Di Trevi Meteo Nella giornata Di giovedì Il vortice ciclonico Che è attivo Tra la Sardegna E Martirreno Continuerà a sostare Sull'Italia Determinando condizioni Di maltempo Localmente In particolare Sui versanti Tierrenici Ma non solo Vediamo nel dettaglio La mappa Della nuvolosità Che ci mostra Un'Italia Le prese con Molte nuvole In particolare Al nord Ma poi anche Sulle regioni Centro meridionali Nuvole associate A precipitazioni Infatti Osservando anche Lo zoom Delle piogge Noteremo come Proprio gran parte Delle isole maggiori In particolare La Sardegna Ma anche i settori Tierrenici Saranno coinvolti Da precipitazioni A più riprese Quindi acquazioni Anche qualche temporale In estensione Poi anche Al versante adriatico Vediamo quindi Più nel dettaglio Il tempo che ci attende Nel corso di giovedì Sull'Italia Avremo una giornata Inizialmente Molto nuvolosa Sulla Val Padana Con qualche residuo A piovigine Ma comunque Il tempo andrà migliorando Nell'arco del giorno Mentre l'instabilità Continuerà a insistere Tra la Sardegna Il Lazio La Campania Qui con piogge Temporali A più riprese Che poi tenderanno A estendersi Al comparto adriatico Coinvolgendo in parte Anche la Sicilia Più occidentale Il clima resta Molto ventoso Le temperature Riprenderanno Un po' a salire Soprattutto al sud Qui infatti Le temperature Raggiungeranno Anche i 18-20 gradi Per effetto Dell'Ibeccio Ma per maggiori dettagli Continuate a seguirci Sull'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Al Duomo Via Filippo Paladini Servizio notturno Al Duomo Via Filippo Paladini Pitศ Avitati Ma per maggiori dettagli È un'interessabile